L'Enel assume dagli appalti senza che nessuno sia al corrente di ciò che sta accadendo, pretendiamo chiarezza, lo sostengono le segreterie FIOM, FSM e Wilm, mentre i lavoratori metalmeccanici si apprestano a mettere in piedi una mobilitazione che provi a dar loro prospettive in seguito all'annunciata chiusura della centrale Grazia dell'Eda di Portovesme a far crescere i malumori tra i lavoratori degli appalti, aggiungono i segretari di FIOM, FSM e Wilm, arriva una notizia secondo la quale l'Enel sarebbe pronta ad assumere dei lavoratori senior, conoscenti o esperti delle caratteristiche della centrale attraverso una delle imprese di appalto. Tutto bello, peccato che parecchi i lavoratori in questione non abbiano mai messo i piedi in centrale. Un'autentica presa in giro per le RSU e i lavoratori degli appalti della centrale Grazia dell'Eda, che dopo diversi tentativi sono riusciti a far ripartire la mobilitazione. In tutti i casi è inaccettabile che si stia superando un passaggio così importante sotto traccia, alimentando di cerie pericolose, aggiungono le segreterie di FIOM, FSM e Wilm, che chiedono alle massime istituzioni politiche regionali di farsi garanti di una immediata risposta alle forti tensioni crescenti che rischiano di sfociare in una protesta permanente. Conoscere quanto si appresta a far la multinazionale è un diritto di chi contribuisce quotidianamente da anni alla produzione energetica, ma soprattutto si vuole conoscere, sostengono FIOM, FSM e Wilm, nel dettaglio il tipo di integrazioni di cui si sta discutendo, senza alcun sotterfugio. Tutti hanno diritto di lavorare, ma se viene predisposto un reintegro che deve passare da coloro che hanno esperienza in stabilimento, la scelta è ampia in coloro che vartano i cancelli quotidianamente e non necessita di ingressi dell'ultimo minuto, soprattutto se tendenti a far passare l'idea che sia utile a dare riconoscimento a chi non ce l'ha. Oltre agli incontri programmati per oggi con il Comitato Interimprese e per giovedì 28 luglio, attraverso la convocazione dell'Assemblea dei lavoratori metalmeccanici, prima dell'incontro con l'assessore dell'industria, per conoscere meglio quanto sta avvenendo, FIOM, FSM e Wilm aggiungono la richiesta d'incontro, urgente, alla SIR, ossia l'azienda che parrebbe abbia ricevuto indicazione di assunzione dei lavoratori senior attraverso un particolare percorso di formazione che esige risposte.